Momento della verità in Champions League da stasera c'è da conquistare la semifinale. La gara più attesa è senza dubbio quella delle ore 21 a Lisbon tra Benfica ed Inter. Per la squadra di Inzaghi lo spartito deve essere completamente diverso da quello del campionato e contro un Benfica ben organizzato e tra le rivelazioni di questa Champions sarà davvero difficile. Sempre alle ore 21 si giocherà anche Manchester City-Bayern-Monaco, ma l'attesa è tutta per Milan-Napoli di domani sera a San Siro. Grazie per la visione!